Tra tante notizie nere per l'ambiente globale, eccone una verde in positivo. Il buco nello strato di ozono dell'atmosfera si sta riducendo e ciò si deve, fa sapere l'ONU, soprattutto all'attuazione del protocollo internazionale di Montreal in vigore dal 1989. Se le politiche concretizzate si fino ad ora continueranno a funzionare, il buco dell'ozono potrebbe richiudersi del tutto entro il 2040. Il caldo mette in fuga molti tipi di piante, in particolare la flora alpina. A causa dei cambiamenti climatici, negli ultimi 30 anni la diffusione delle piante autoctone nelle Alpi europee non solo si è considerevolmente ridotta, ma si è spostata verso quote più alte. Il mare vita, benessere, prosperità e progresso per l'Italia. Un grande bacino di oro blu che circonda il nostro paese, che con i suoi 8.300 km di coste dipende fortemente dal trasferimento via mare delle proprie esportazioni, 55%. Il mare è inteso come grande risorsa dal valore scientifico, economico, culturale e ricreativo, e quindi grande risorsa da tutelare, proteggere e valorizzare. Per questo anche l'11 aprile scorso si è celebrata la giornata nazionale del mare, che tra le tante azioni improntate ad un'opera di sensibilizzazione di una cultura blu, ne ha viste molte di livello informativo e divulgativo, soprattutto nelle scuole. In Italia sono state riconosciute 29 aree marine protette, AMP, a cui si aggiungono due parchi sommersi che, insieme ad altre tipologie di aree protette, nel complesso tutelano circa 308.000 ettari di mare e 700 km di costa. 1.500.000 euro è il budget totale per il bando relativo alla comunicazione locale, promosso dal sistema ANCI Consorsi di Filiera, uno strumento di rilevante significato in supporto alla gestione della raccolta differenziata, organizzata dagli enti locali o dalle realtà da essi delegate. L'accordo di programma quadro ANCI Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato così la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, finalizzata ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all'avvio e riciclo dei rifiuti di imballaggio. Possono essere presentati progetti riferiti ed attività condotte nel corso dell'anno 2023 e del primo semestre 2024, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 maggio 2023 sul sito web bandoanciconai.conai.org.